ancora lagna guarda anche la porta e gli inserimenti grande valle verticale dove conclude di prima troisi ma trova la mano di guidi che risposta piloni scogliamiglio chiuso dalla conclusione prima il recupero poi il piazzato di ventricini lodi 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 dentro per troisi grande palla di lodi tutti ad abbracciare il 5 anche se segna troise 2 a 0 pronto lodi che vuole giocare corto palla un po corta lodi si coordina con troisi che praticamente mette il pallone fuori il pallone anche troisi preferito di giulio non verticale però troise alla stasi lo anticipa e poi apre in maniera intelligente tanto spazio sulla sinistra poi dentro troisi 24 10 i villini provano a dare l'ultima scossa in avanti palla però casartelli che la mente dentro ancora casartelli primo squillo dei villini palla fuori però casartelli lodi recupera riuscire per il pallone e poi riparte da solo grande giocata lodi in verticale però troise guidi miracolo troppo corta per lodi tocco per gli uti no spaccata per casa artelli volo di luci palla difficile gestire per guidi l'intricini troise troise con il piazzato in due tempi qui però resiste al contatto anastasi deviazione poi giocatona di piloni che parte e allarga però casartelli che va direttamente alla conclusione perché non c'è nessuno e spinge luci zona del tiro quasi in mezzo con lodi che questa volta anticipa troise però va bene quasi perché prende la traversa nasconde il pallone poi lancia lungo Luisa anticipa la topola che carabola sui piedi di mele che ha avuto la chance di accorciare le distanze pasticcio della difesa del minister calcio non ne approfitta casartelli a due minuti dal termine crosso in mezzo forte però casartelli che ha avuto la chance di riaprire tutto a due minuti dalla fine addirittura qui di abbattere addirittura il portiere è lui a battere la punizione conclusione luci para mette in angolo vediamo se c'è ancora tempo non c'è più tempo è l'ultima emozione di mister calcio contro i villini si aggiudica il primo posto il mister calcio che vince con il punteggio di 2 a 0 diciamo applausi a partenza poi vai vai a parte a parte a parte a parte a parte a parte Grazie.